9 kg di marijuana, 3 di cocaina e quasi 2 kg di tritolo da cava pronto per esplodere. A nascondere accuratamente droga esplosivo una 32enne foggiana, arrestata dai carabinieri del capologo Dauno nel corso di un controllo. La donna è incensurata. È stata notata a bordo di una Fiat Punto nei pressi di un distributore di carburante Kuwait di via Manfredonia. Il suo strano atteggiamento ha attirato l'attenzione dei militari che hanno deciso di perquisire l'automobile. Sui sedili posteriori è stata trovata una borsa di plastica con all'interno tre panetti di cocaina da un chilo ciascuno e un sacchetto con altri 300 grammi della stessa sostanza. Il controllo si è poi spostato nell'appartamento della donna, dove sotto alcuni vestiti accumulati nel vano lavanderia, gli uomini dell'arma hanno rinvenuto altri 9 sacchi di marijuana da un chilo ciascuno e un grosso ordigno rudimentale, confezionato con quasi 2 kg di tritolo da cava, pronto per essere utilizzato, oltre ad un detonatore e una miccia a lenta combustione. In base a quanto accertato dagli investigatori, dalla cocaina sequestrata si sarebbero potute confezionare oltre 20.000 dosi, mentre altre 22.000 se ne sarebbero ricavate dalla marijuana, per un valore di mercato vicino al milione di euro.